Siamo a Fosso Vallelunga, Fiorilli avete oggi mostrato un nuovo scarico che non si sa di quale natura possa essere. Sì, proprio così l'opera di Vescara Mi Piace continua proprio su questo, non soltanto una critica all'amministrazione ma anche un monitoraggio costante che spesso ci viene proprio da segnalazioni di cittadini come in questo caso che ci chiedono cos'è in questo caso uno scarico particolare che emana cattivo odore e noi rivolgiamo, rigiriamo la domanda al sindaco perché ci dia risposte soprattutto in arrivo della stagione estiva ci chiediamo e chiediamo se è uno scarico monitorato, che cosa esce da quello scarico e che cosa sta facendo l'amministrazione per porvi rimedio. Tra l'altro nel momento in cui si vivono giorni drammatici per l'inquinamento del mare c'è la regione Abruzzo che taglia i fondi all'Arta quindi l'Arta che è preposta a fare le analzi e il Comune di Pescara che cosa fa? Adotta la tassa di soggiorno per dare il benvenuto a chi deciderà di venire a Pescara. Questo scarico è uno dei tanti che ovviamente peggiora lo stato di queste acque e siamo anche alla vigilia della stagione estiva. Sì, sicuramente proprio l'altro giorno l'Arta ha definito le acque di balinazione in prossimità del Valle Lungo inquinate. Quindi a questo punto in questa zona ci sarà probabilmente il divieto di balinazione? Per forza perché se l'Arta definisce le acque inquinate il sindaco dovrà emettere apposta di ordinanza perlomeno 300 metri a nord e a sud della foce del Valle Lunga.